leggiamo il mondo la lettera h ghianda io ho un nuovo amico è passato un anno ai la consonante h è una lettera muta perché non ha nessun suono ma viene usata nei suoni duri chi che ghi ghe per distinguere alcune voci del verbo avere o ai a anno da altre parole che si pronunciano nello stesso modo o ai a anno in alcune esclamazioni a o ai